La taverna è a Taranto in via Lombardia 2, gastronomia d'asporto, primi piatti 3 euro, secondi piatti 3 euro, contorni 2 euro e 50. Arriva l'estate e allora non crearti problemi e non perdere tempo, vai direttamente a mare, a cucinare, pensiamo noi. Piatti freddi pronti, le tue insalate a scelta con insalata verde e o riso a partire da 3 euro. Potrai farle arricchire al tuo piacere con tonno, mais, mozzarella, anche insalate di patate fresche, caprese, servizio a domicilio e allora basta telefonare allo 099 37 70 96 e ordinare. Troverai tutto pronto anche con bibite fresche. Perciò tu fatti a mare con il nostro slogan. Avevo un problema di casa a cucinare? Risolto, risotto!